8.000 di volte, volte! Oh mio Dio! E ciao a tutti ragazzi, quest'al... Ok no, vabbè, sembravo un porno. Quest'alto 5.0 ci trovo qui sulla Pixelmon! Oh yes, motherfucker! Nello scorso episodio... Ciao, ciao! 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 Cucu! Ok, vuole fare cucu! 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 È morto! Morto! Dov'è? No, mi sto divertendo! Vabbè, comunque, quest'alto ci trovo qui sulla Pixelmon! Oh sì, baby, voce calda, tanto calda! Sentite questa voce calda, non state sudando! Oh sì, baby! Allora, adoro il Samson! Certo, sembra un pisellone, però è figo parlare con questo pisellone! No, ok, no, 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 Peppo! No, Peppo! No, ok! Nello scorso episodio ci siamo lasciati qua nella prateria! Mi avete detto, Peppa! Ci sono gli alberoni! Peppa, sei un cercato di merda! 200 commenti dove mi dicevate che a totte minuti c'era questo albero, e c'è un altro sin da qui, dove dentro c'era una... Sì! Ho trovato... Eh, però alziamo il volume perché è bassino! Down back to game! Oh yes, motherfucker! Poi mi avete detto che... Eh, esattamente! Eccolo là, ce n'era un altro! Poi mi avete detto pure che a nove minuti del video ho perso una piramide... Oh, c'è un notrio! Eh, c'era una piramide... Eh, la piramide, ragazzi, sinceramente, minchia, ritornare in quel deserto che ci sono passato per puro caso... Non c'ho proprio voglia perché caccapupu, no? Ecco! Mi avete detto, comunque, nelle praterie... Appunto, spawnano un botto di sti alberi... Mi sa che li devo cercare più spesso... Sì, ho trovato power band! Poi che ho trovato? Al max e l'ethere max! Che cazzo è? L'ethere max mi pare che restituisce tutti i pipì alle mosse... Oh, ma là c'è un villaggio! E la pipì! Eh, signori! Eh, là c'è un villaggio! Andiamo al villaggio! Ah, poi un'altra cosa mi avete consigliato! Aspetta, prima che vado al villaggio... Mi avete consigliato una cosa... Allora... Intanto, vabbè, sì, deve espare tutti i Pokémon... Comunque, mi avete consigliato di tenere Rapidash... Perché? 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 Ora ve lo dico... Arriviamo là... Possiamo Pony... Anzi, no, prima lo guardiamo un attimino... Ora... Aspettate un attimo, ora ve lo dico... Promessino! 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 Ok, arriviamo qua... Allora... Ok... Apriamo l'inventario... Tasto destro... E... Smooth... Smooth... Allora... Mi avete detto che... E... Ponita verso il livello 50... Comunque, evolvendo... Sì, vabbè, evolvendosi... Diciamo... Livellando... Dovrebbe imparare... Mi pare che mi ha detto Nitrocarica... Mi pare... Una cosa del genere... Quindi mi avete consigliato di tenere lui... Perché... Sono ottime mosse... Allora, Megacorno è una mossa di tipo Coleottero... Mi avete detto... È una tra le più forti... Quindi a sto punto... Visto che è una mossa di tipo Coleottero... Io me la tengo... Poi fa 120 di danno... Accurace 85... Quindi... È abbastanza ottima... Idem... Fileblast... Che è... Fuoco Bomba... Ovviamente la Terra è la mossa... È più forte di tipo Fuoco... E... Poi mi avete detto che Tile Whip... È... Cos'è Tile Whip? Non me lo ricordo... Poi vabbè... Questo qua è Attacco Veloce... Ragazzi si chiama... Come si chiama? Attacco Veloce... Non si chiama Attacco Veloce... Come si chiama? Come si chiama? Vabbè... L'Attacco Veloce... Come si chiama? Veloce Attacco... Vabbè... Una cosa del genere... Attacco Rapido... Ecco... Questo qua è Attacco Rapido... E... Tile Whip... Non mi ricordo il cazzo era... Comunque... Io mi terrò in Rapido... Bomba è Megacorno... Poi vabbè... C'ho Attacco Rapido... Quindi è buono... Dovrebbe imparare... Gli farò cancellare Tile Whip... Cioè gli farò... Dimenticare Tile Whip... E... Gli farò... E... Imparare... Se la impara... La come cazzo si chiama? La... Riduttore... Oh! Ciao Dottor Kauser! Attenzione sulla fascia... Entra Dottor Kauser... Mentre Ponita tiene appunto... Rapid Giro... Stomp... Ember e Taekle... Diciamo che... Sinceramente lui... Mi piacerebbe di più... Perché ha Brucia Tu... No mi hai detto che questo qua è Bracere... Ecco Ember è Bracere... Che... Può pure scottare... Che ho... Non è male... Però Ponita... Per il momento lo posso... E ci teniamo Rapidash... Vediamo come va... Affin... Oh... Come si posa? Come si posa? Va lì... Aspetta... Ah! Devo cliccare... Ok! No! Pensavo si spostasse... Ok! No no no... Cazzata mia... Ok! No! Aspetta... Rapidash lo voglio secondo... Poi voglio Flygon... Poi Pikachu... E poi sin da qui... Oh yes! Motherfucker! Perfetto! Ok! Ma dove l'ho messo? Tipo nel box... Infatti l'ho messo nel box 16... Poverino... Cioè... Povero Ponita... Ok! Va bene! Quindi! Ok! Poi mi avete detto... Pepa! È un Pokémon... Come si chiama? Shinx... Aspetta... Fight... Muori tantissimo... Mi avete detto tipo... Luxi è un Pokémon tipo extra raro... Che cazzo mi avete idea... Ma che ne so... Ma tipo... Muori! Cazzo... E... Mi avete detto... Pepa... Quel Luxi che avevo trovato... Non so quale cazzo il Pokémon sia... Non me lo ricordo più... Mi avete detto... Ma è un Pokémon rarissimo... Blah... 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 Quindi caccapopo... Allora... Prendiamoci... Flygon... Blah... 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 Mamma mia... Sei inutile... Guarda... Non vedo un cazzo... Non vedo un cazzo... Non vedo un cazzo... Eh... La maledizione... No... Cazzo premuto... No... F5... Ok... Dove cazzo era? Allora... Aspetta... Qui... Ok... Era di là... Carica il mondo... Quindi... Quando carica il mondo... Il Flygon ha i tic... Perché è impazzito... Un deficiente... Un altro... Master Alber... Oh yes... Motherfucker... Ma raga... Ma è una cosa bellissima... Trovare sti Master Alberi... Eh... Cioè... Qua sti cosi... Qua... Posso scendere... Stupido... Di un Flygon... Nel mentre... Sta diventando rotto... Attenzione... F5... F5... Ok... Che cazzo è... Power Lens... C'è... Ho fatto un anello... C'è... Un anello... Un anello... C'è... Un anello... Ok... Vediamo se qui ci sono... Quest... Ok... Siamo in un villaggio... Vabbè... Vabbè... Voi l'avete... L'avete visto che siamo in un villaggio... Non è che siete deficienti... E dici... No... Guarda Pepo... Non sei in un villaggio... Sei in un allevamento... Di porci... Quindi... Ah... Ok... Sono... Ok... Perfetto... Questo qua è una... Che se la chiede... Ma che è sta roba... Oh... Salve... Negocio di biciclette... Salve... Perché c'è un blocco di terra... Perché c'era un blocco... Ok... Oh... 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 Roba... Attenzione... Pepo trova la roba... Attenzione... Pepo trova la roba... Ok... Quindi... Diciamo che il cassiere è andato a farsi fottere... Eh... La posso comprare? Eh... Eh... La posso comprare... Eh... Che siete brutti... Questo qua per un emeraldo... Per un emeraldo ti dà otto cocomeri... Devo dire... Conven... Eh... Questo qua per dieci emeraldi... Una spada in ferro... Eh... Ti prego... Non troppo, eh... Brutto rumore... Eh... Cos'è? Bike shop... Questo qua per undici libri... Ti dà un emeraldo... Ok... Ok... Perfetto... No... Levati dal cacchio... Levati... Non mi guardare! Non sto facendo niente... È stupido... Sozzone... Ok... Perfetto... Stiamo prendendo giusto un po' di libri... Ne approfittiamo... No... Così c'è... Ma a questo punto... Giusto per avere un emeraldo... È solo per quello, eh... Ok... Prendiamo questo emeraldo... Eh... Dai... Spostati roba inutile... Ok... Perfetto... Prendi tutto... Oh yes... Motherfucker... Levati... Oh yes... Motherfucker... E levati... Mamma mia... Sei fastidioso... Allora... Per undici... Per dodici... Ovviamente... Contratto con te... Che per undici... Allora... Oh yes... Motherfucker... Eh... No... Dai... No... Dieci... No... Che cazzo mi faccio i dieci libri... Porca vacca... Eh... Vabbè... Abbiamo un emeraldo, raga... Abbiamo un emeraldo... Tu che dai... Per un emeraldo nove frecce... Ah... Sì... Devo dire conveniente... Tu per un em... Sei mele... Ma signora... Ma scherzano sono seri... Cioè... Ma per favore... Cioè... Uno smeraldo... Che poi non è emeraldo, eh... Allora... Ok... Perfetto... Che ci faccio con la battle lince... Dai... Levatevi dal piffero... Sette polli... Attenzione... Sette polli... Vi date fuoco col cherosene... Per favore... Mamma mia... Cosa c'è qua sotto? Nulla... Ok... Pordello che fanno... Oh... La casa del fabbro... Cosa c'è qua dentro? Nulla... Ok... Oh... La cesta... Oh... Pane... È un lingotto d'oro... L'armatura... L'armatura del cavallo... Sinceramente non me ne faccio un cazzo... Poi c'è pure l'inventario pieno... Quindi l'armatura del cavallo... Gliela lascio là... Perché è inutile... Allora... Oh... Oh... Raga... Altri libri... Altri... Ma non ce l'ho un'ascia... Un qualcosa... Ok... Usiamo la pala... Perché con la pala... Almeno la rompiamo... E possiamo farcela... Vediamo... Eh dai... Spaccati subito... Spaccati che devo andare a fare... Libri! Valedizione a te... Dai! Così mi prendo un altro smeraldo... Ok... Rompiamo qua... Rompiamo qui... E rompiamo qui... Oh yes... Perfetto... Vediamo quanti libri c'ho... 31... 31... 31... 31... No... 31 sono troppo... Troppo... Va bene... Ok... Dov'è? Dov'è? Dove sono? Dov'erano? Eccoli là... Salve! Allora... Dammi... Uno smeraldo... Perfetto... Ok... Ora trattiamo con l'altro... Che per 11... Mi dà uno smeraldo... Oh yes... Sì certo... Per 10 smeraldi... Capito? Che cucciolo è... Per 10 smeraldi... Lui mi dà... Che ci faccio con un libro di siltacci? Ma che ci fa... Ma da... Ma mi prendono per il culo... Sti stronzetti qua... Allora... No le patate non le voglio... Il grano... Che cazzo me ne ho fatto... Perfetto... Ok... Mentre qui c'è un tizio nudo... Attenzione... C'è Ashton... In costume da bagno... In piena notte... Ovviamente... Perché ovviamente... Qui non... Non fa freddo... Esattamente... Allora... Io camminerei un altro po' per... Le plate vie... Perché appunto... Se è un albero... No non è un albero... Mi ha detto che si chiama Master Albero... Come cazzo... L'albero Master... Che come cazzo mi hai detto che si chiama? Non me lo ricordo mai... Oh no... Che cazzo racconto? Che cazzo... E buttavi a sta merda... Che cazzo me ne faccio i 19.000 stack di... Di semi? Allora... Sì... Rattata... Ciao... Come dici tu Rattata... Allora... Ma c'è lo zoom... No non c'è lo zoom... Cazzo no... C'era lo zoom... Mi ricordo... Tempo fa... Tanto tempo fa... C'era una volta lo zoom... Aspetta... Nella giungla... Fatemi sapere se ci sono... Oh oh oh... Oddio... Che cazzo è? Un lampe... Un lampe... Una lampada... C'è una lampada... Un altro... C'è il master albero... Master... Levati dal cazzo... Che non lo vedi... C'è un master albero... E te posso trovare le master ball... Cioè andiamo brutalmente... In questi alberi... Abnormi... Che magari trovo le master ball... Aspetta... Ok... Perfetto... Cazzo è sta roba... Ma io li metto ai pokemon... Perfetto... Raga fatemi sapere... Poi che cazzo servono... Perché io so che... Alcune di queste cose... Danno determinati tipi di... Di... Di robe... Ma c'è dalla luce... La cazzo... Oddio c'è dalla luce... Attenzione... Lava... Attenzione... Lava... Sicuramente... Perché non penso che di qui sia passato qualcuno... E abbia... Del fuoco... Oh... Ok... Allontaniamoci... Lontanissimo... Anche se qua dentro... Ragazzi c'è una master... Però aspettate un attimo... Voi direte... Pepo... Pepo... Non ti avvicinare alla lava... Pepo... Non farlo... Pepo... Sei lontanissimo da casa... Pepo... Non farlo... Pepo... Puoi ancora salvare la tua roba... Eh lo so... Davvero lo so... Lo so... Però... La curios... No... No... Raga... Sono a... No no no... Ma io se... Ma lontano... Ma lontano seriamente adesso... Eh... Va bene... Nella giungla mi sa che non spawnano sti alberoni... Mi sa... Mi sa proprio di no... Ok... Va bene... Eh... Io quasi quasi... Dottor Chaos... Left Join... Left Join... C'è il Dottor Chaos che sta facendo sesso col server... No? Perché il Dottor Chaos entra e esce... Entra ed esce... Entra ed esce... Fino a quando, capito, il server non diventa mamma Ecco, bravissimo Dottor Chaos, fai l'amore con il server Grandissimo, Dottor Chaos Allora, ma dove sono gli alberoni, dai Ah, comunque mi hai detto pure di ingrandire l'acqua di qua Muori, Moksha, Plax, mongoplegico Eh, oh, che cazzo sei tu? Ma che cosa sei tu? Leo, ma sei bruttissimo Ma sei bruttissimo Sei bruttissimo Muori tantissimo Ma io Flygon non lo voglio Voglio un altro Pokémon volante Ma non lo voglio Non so che altro Pokémon volante farmi Oltre a Flygon Però Flygon mi hai detto che è forte Cioè, impara Dragospiro Impara Stead Dragarty Perché è tipo È pure un drago lui, sto cosco Io ho droppato Oh, venti dollari Cheese Oh, ma ammazzando sti tizi Droppi soldi? Oh, raga, ma se ammazzando sti tizi Si droppano soldi? Ogni tizio deficiente che incontro lo aro, eh A sto punto Cioè, non è che ci vuole tanto Uso Rapidash a sto punto Allora Comunque, se incontriamo un altro Rapidash Lo cattureremo Per il semplice fatto Che... Oh, Hunter Hunter! Strano che non l'abbiano detto Eh, che fa Dicevo io Allora Raga, nel mentre sto anche cercando Altri Master Alberi qua Altri Master Cosi Magari trovo qualche roba Eccolo qua un altro Eccolo qui Ah, no, no Semplice, entrano due alberi incucchiati Ok Ehi, Tiorino! 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 Mi stai voti Questi alberi Voglio trovare... Cioè, magari trovassi il condividi esperienza Ah, oh, là c'è un albero Là c'è un albero Attenzione! Là c'è un albero Attenzione Attenzione Albero in vista Attenzione Oh, ciao faccia di cazzo Io livello 40 Koffing Mamma mia, Koffing Fire Blast Attenzione! Flareon! Pokémon di tipo fuoco Ti faccio un mega corno Attenzione! Eh, no, io ho levato un cazzo Eh, usiamo attacco veloce Attenzione! Attacco veloce Rapidash fa malissimo Super attacco Come si chiama? Attacco labo Eh, attenzione! Rapidash! Livella, attenzione! Non è livellato, ok Eh, fu un altro Flareon Attenzione Fire Blast Attenzione Fire Blast Attacco bomba Lo manca Pure lui Mi manca Incredibile Un altro fuoco bomba Io ho levato un cazzo di niente Perché ovviamente sono una mossa di tipo fuoco Contro un po' che è un tipo fuoco È da dito nel culo Mega corno! Attenzione! Boom and shot! Quello là è un Flareon O è Cioè, ma quello lì non è un Flareon Cioè, questo qua Semplicemente Capite? Cioè, è un cavallo Ma che dico un cavallo È un Onyx Cioè, è un Onyx col pelo Non può essere così grosso Più del mio Rapidash Cioè, parliamone Cioè, che cos'è sto coso? È enorme! È fottutamente enorme! Con me E mi sta morendo Mi sta morendo Attenzione! Mi muore tantissimo Mi muore tantissimo Rapidash È morto Rapidash Sono una persona triste Io mando Swampert Ma no! Ma non vale! Ma no! Ma quanti cazzi Flareon ha? Smettila! Ti odio! Guardalo! Ma dai! Ha più Flareon lui Che... Che è tutto a Pokémon E fa morendo È Volpix Ma hai rotto il cazzo! Ma morite! Morite! Oh! Mi ha livellato anche Swampert Però mi è morto Aspetta, c'era una... Ecco, sta andando verso di quello Verso di quello! Attenzione! Pepo che va verso di quello, eh! Mamma mia! L'italiano mi dicevano All'età 12 anni, tipo Allora, vediamo se c'è... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Eh, levati dal cazzo! È entrata! Scusi! Ok! Sì! Power! Power... Ma io lo metto a... Ragazzi, fatemi sapere Che cazzo sono sti cosi! Fatevelo sapere! Perché così, appunto Cioè, li metto ai Pokémon giusti! Perché magari metto, tipo A Rapidash Che è un Pokémon veloce Tipo, aumentagli la velocità No, non ha senso Metterà un Pokémon veloce Aumentargli la velocità Cioè, capite bene Che è caccapopo Oddio, ma che è un magico Attenzione! Attenzione! Urati, che è... Attenzione! Attenzione! Vabbè! Oh My Fucking God Sì! Daquil! È l'amado... Allora, aspetta Eh, Sindaquil Dai C'è un Pokémon base Non rompere il cazzo Sì, daquil C'è un Pokémon base Non rompere il cazzo Non rompere il cazzo Il cazzo È un Pokémon base